Siamo nella settimana per la prevenzione contro le dipendenze, LG Trino si fa promotore di doppio evento, uno venerdì mattina al teatro civico alle 10.30, un incontro con le associazioni e la domenica, la partita ovviamente contro la Pro Settimo, che ringraziamo tra le altre cose che ci ha dato la disponibilità di fondere il messaggio. Sì, è il terzo anno consecutivo che cerchiamo di fare grazie a Marco, grazie al nostro addetto stampa e al suo staff, questo incontro per quest'anno contro le dipendenze con l'aiuto del Comune e cerchiamo di fare venerdì mattina questo incontro anche con le scuole, è chiaro che non è che pensiamo noi di risolvere tutti i problemi gravi come questo, ma credo che possiamo aiutare o essere di aiuto per fare qualcosa contro una piaga che è una piaga difficile da devellare per chiunque, no Marco? Assolutamente, poi invece domenica un trino inedito, un trino completamente in bianco con le divise candide scenderà in campo, noi siamo abituati a vederlo giustamente bianco-azzurro in alternativa in giallo, questo trino total white possiamo dire. Sì, ma anche come dicevi tu è per la trasparenza di quello che cerchiamo di fare, quindi un messaggio anche questo con una maglia particolare dedicata proprio alla giornata, ecco, speriamo che porti anche fortuna alla squadra, ecco, che non guasta vai questi. Facciamo vedere la maglia, alza, 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 ecco la maglia con cui il trino, lg-trino giocherà domenica, Marco insomma facciamo le dita che porti, faccia del bene ma porti anche fortuna insomma. Speriamo di portare a casa i tre punti anche grazie a questa maglia. Speriamo di portare a casa i tre punti anche grazie a questa maglia.